Ehi, bentornati. Partiamo dalle cose belle. Subito dopo gli attentati di Bruxelles hanno iniziato a circolare, ovviamente, le affermazioni corredate di quei video di YouTube che tanto ci convincono e che rimandano assiti dai titoli altrettanto convincenti, robe tipo aprite gli occhi, scuotiamo le coscienze, robe di questo tipo, che volevano appunto gli attentati fasulli. Come ogni altro attentato del mondo. Particolarissimo, ad esempio, uno di questi video che mi avete linkato che si apre con un tizio che dice teniamo presente che qualcosa in Belgio è successa perché è un amico che vive a Bruxelles, dato che ha visto che c'era movimento, polizia, casino, ambulanza, eccetera, ma questo non significa che ci sia stato un attentato e nei prossimi interminabili millemila minuti vi spiegherò perché. Ovviamente corredando il tutto di frasi assolutamente non presuntuose tipo voglio far funzionare i vostri cervelli. Ah, internet, I love you long time. Una delle cose migliori è il fatto che non sarebbe vero che Bruxelles sia stata militarizzata e che nelle città non si vedevano in realtà molti militari per strada anche pochi minuti dopo l'attacco. È una cosa che hanno detto in molti, è stata smentita perché ci sono le immagini che mostrano i militari, ma non fa niente. È per provare questa roba qui una nostra europarlamentare, perché gli italiani si devono sempre far riconoscere, per creatività e ingegno decide di fare la prova del day after. Si reca in una strada isolata dove non c'è nessuno, lascia un trolley al bordo della strada, poi si nasconde e registra il trolley solo soletto abbandonato al bordo della strada per ben cinque minuti. E sapete cosa succede? Niente. Non succede assolutamente niente. perché nessuno vede il trolley, perché non viviamo i minoriti report e la polizia non viaggia indietro nel tempo, non è onnipresente e non si catapulta giù dagli elicotteri poco prima che un crimine venga commesso. Siamo solo nel 2016, non nel 3058. Ovviamente sono piovute le critiche, la parlamentare in questione, Tiziana Ciprini, è però rimasta fedelissima alla linea e ha postato, anzi su Facebook, un muro di testo gigante che giustificava il suo operato, che peraltro cerca di mettere in guardia visto che c'è dal pericolo della creazione della polizia europea che è un altro terrore dei complottisti che ritengono che tutti gli attentati siano stati finti dagli illuminati in modo da avere una ragione per creare questa sorta di corpo di polizia unificato europeo che peraltro, per quanto mi riguarda, sarebbe pure una cosa che vorrei. E se possibile anche un esercito unificato? E un programma che insegna a tutti gli inglesi in maniera decentra nelle scuole in tutta Europa? E magari un governo unificato? E un parlamento unificato e un unico presidente? Non so, sono cose che desidero. Penso sarebbero cose positive, probabilmente faccio parte degli illuminati e nemmeno lo so, oppure sono una sorta di versione moderna dell'utile idiota. Cerchetevolo su Google, è interessante. Parlando di internet, I love you. Microsoft ha fatto una sorta di esperimento lanciando uno di quegli strani robot, dico i bot, che parlano con gli utenti e imparano in base a quello che gli utenti dicono a loro, arricchendo il proprio vocabolario. Su internet è pieno, ma l'ideona a sto giro, quella che immagino abbia fatto cadere i monocoli e sollevare le cravate durante il meeting aziendale in Microsoft è stata. E se mettessimo tutto su Twitter? E ovviamente il tutto è durato 24 ore. Il bot ha smesso di rispondere e Microsoft ha fatto sapere che il sistema va perfezionato e di averlo disabilitato momentaneamente dopo che gli utenti lo hanno trasformato, TAI, si chiama così l'intelligenza artificiale, in una sorta di antisemita e misogino incubo pro-Hitler o qualcosa del genere. Perché internet? Per quanto riguarda altre cose interessanti c'è un video nel canale ASAP Science, che probabilmente conoscete, che ha deciso di affrontare una delle questioni più divisive su internet dai tempi della PlayStation 3 e dell'Xbox 360. Ovvero, se fossimo tutti vegetariani sarebbe meglio per il pianeta? Eh, spoiler alert, la risposta semplificata è sì, lo sarebbe. E il vegetarianesimo e soprattutto il veganesimo sono diventati degli argomenti che non è possibile affrontare senza il rischio di volersi iniettare la benzina nel sistema circolatorio poco dopo l'inizio della discussione. Probabilmente perché, come spesso accade, entrambe le campane pro e contro hanno delle note sensate da suonare e nessuna delle due parti vuole allo stesso tempo fare concessioni al nemico. Più o meno come in politica, ma più benzina nelle vene e più generiche accuse di genocidio. Ah, e voleste saperlo? No. Non sono vegetariano, ma sinceramente non avrei alcun problema a diventarlo se volessi. Svolazzano nel limbo del fregacazzismo per quanto riguarda la questione, ma sono anche abbastanza sicuro che, perlomeno, il modo con il quale trattiamo gli animali adesso sarà una delle cose per le quali i nostri nipoti si vergogneranno di noi un giorno. C'è anche una foto che sta circolando un sacco e intendo proprio un sacco per essere stata pubblicata dal profilo Facebook di una persona a caso che si trovava in fila in questo takeaway americano, dato che la storia dietro è la seguente. La donna alla guida sarebbe una persona che è recentemente rimasta vedova, peraltro a giovanissima età. Appresa la notizia, alcuni dipendenti bloccano la fila per alcuni minuti per pregare con lei cercando di consolarla ed è proprio quello il momento nel quale la foto viene scattata. Questa roba l'ho vista riproposta in varie salse, compreso il solito amico armato di fedore e coltello butterfly che gridava la stupidità della cosa, il fatto che quei tizi sono lì per fare un lavoro, la fila bloccata, non c'è nessun dio, la religione stupida, eccetera. E... Ah, avrei così tante battute da fare che il mio cervello non riesce a processarle in modo corretto. Secondo spoiler alert, per chi fa se nuovo, io sono super ateo e peraltro convinto sostenitore dell'importanza di uno stato laico. E questa nozione ci servirà anche tra poco. Ma questo è il tipo di religione positivo che a me piace veder praticato. Non credi nel loro dio? Grande! Ma almeno usano questa fede per fare qualcosa di bello, cercare di aiutare qualcuno nel superare un momento difficile, non è quello che tutti dovremmo fare a prescindere dai mezzi che utilizziamo. Tanto alla fine che ci sia un dio o che non ci sia, che ci capitino più fortuna o più sfortune nella vita, siamo tutti quanti su una roccia sospesa nello spazio con le nostre ansie e le nostre fragilità, e soprattutto non sia mai che devi aspettare un minuto per prendere il tuo doppio Big Mac e tornare negli scuri anfratti della tua stanza a twittare al bot di Microsoft frasi sull'assenza di dio, sul Gamergate e sui miei mini-point. Giusto peraltro per ricordarci che in questo pezzo di terra che rota nello spazio succedono anche cose non altrettanto belle, mettiamola così, a sto giro non ve lo mostro nemmeno il video perché sennò YouTube non smette più di minacciarmi, il nostro rapporto non è mai stato migliore di questo momento, mamma Google, ti voglio bene. Ecco ti faccio anche il cuore e un sorriso. Sta girando molto un video che mostra un soldato israeliano sparare a un tizio che ha appena accoltellato altri due israeliani, un palestinese, l'uomo incapacitato, steso per terra proprio, e non c'è dubbio sul fatto che non sia un pericolo per nessuno, è immobile da solo, poi arriva un militare, carica il fucile d'assalto che ha addosso e gli spara in testa uccidendolo. Però, wops, qualcuno ha ripreso tutto e in tanti me lo avete mandato con il solito codazzo di buh israeliani bastardi o di yeee un terrorista in meno, FTV, MLG, ci sono anche un sacco di cose positive che mi scrivete, però per ragioni di brevità vi descrivo tutti i comitivi deficienti. Lo faccio comunque con amore e comunque no, non è nell'una nell'altra cosa. Non sta al militare distribuire la morte in questo modo anche in una situazione come questa, e no, non significa che questo succeda per forza sempre, anche se è ipotizzabile che succeda. Vogliamo credere che succede solo nel momento nel quale qualcuno sta riprendendo? Ovviamente no. Ma il punto è che palestinesi e israeliani, anche se non tutti ovviamente, si trascinano dietro un odio lunghissimo, antichissimo. Pensate a come alcuni italiani abbiano iniziato a parlare di camera a gas e tagliare teste in un nanosecondo dopo che sono avvenuti gli attentati, nemmeno in Italia, in Belgio, un paese al quale il 75% di noi avrà pensato meno di sette volte nel corso della sua interesistenza. Figuratevi se fosse successo in Italia e quindi figuratevi ancora di più quanto profondi possono essere odio e intolleranza nella gente che vive in un territorio con una storia come quella. E parlando di intolleranza, siete davvero pronti a litigare con amici, parenti e soprattutto qui sull'internet nei commenti? Perché io ve lo dico, sono d'accordo con D'Alema. Ok, era... e sono io che butto un esplosivo. D'Alema, dopo essere un dunk meme, ovviamente, è un noto politico italiano che è stato anche alla guida del governo quando i baffi erano più scuri e la moda per gli uomini era praticamente la stessa. Seriamente, sembra che gli uomini abbiano smesso di provare proprio. Camicia, giacca, cravatta, blam, fatto. Non cambieremo più idea per i prossimi 200 anni. L'ex presidente del Consiglio è molto criticato in queste ore per aver parlato di una sorta di 8x1000 alla chiesa islamica. Che non esiste e questo è proprio il punto fondamentale. Non esiste. Si parla di crearla, o perlomeno di favorirne la nascita, una sorta di chiesa islamica europea. Immaginatevela così per capire di cosa stiamo parlando. Ora che ci penso, se fossi l'amico complottista, questo sarebbe il momento migliore per dire una roba tipo ho intenzione di solleticare i vostri cervelli inferiori e farvi aprire gli occhi, robe così. Comunque, l'islam, e questo è il punto, ha al suo interno molte correnti, oltre la famosa divisione sunniti sciiti, e non ha strutture di poteri riconosciute. E D'Alema avanza l'idea che per contrastare le frange più estremiste, come il wahhabismo, che vengono sovvenzionate da stati come l'Arabia Saudita, che in tanti fanno notare, vi ricorderete, non essere poi così dissimili dall'Isis. E quindi, per permettere alla versione moderata dell'islam di sopravvivere, non è soltanto necessario tollerare l'islam nei casi migliori, o parlare di respingimenti e camere a gas e mitragliatrici sulle coste, nei casi peggiori, ma permettere alle comunità islamiche integrate di prosperare, anche economicamente, perché di nuovo, se non prosperi economicamente muori, in tutti i casi. Come al solito, non significherà nulla, perché tanto le cose, anche se gli altri le fanno e funzionano, come i matrimoni gay e la vendita di marijuana nei negozi appositi negli Stati Uniti, ci sarà sempre qualcuno che parlerà della fine dei tempi se si parla di una certa legge o di una certa idea. Anche se funziona all'estero, è come se ci fosse una sorta di muro che ci impedisce di vedere quello che succede agli altri. Apparentemente è la Croazia che ha compiuto questo processo di integrazione, sovvenzionando le comunità islamiche integrate, proprio con una sorta di 8x1000. E, a quanto pare, nemmeno un foreign fighter è partito dalla Croazia per andare a combattere nello stato islamico, cosa che invece è successa da tutti i paesi europei, praticamente, nonostante la forte presenza di musulmani nel paese. Ce ne sono tanti. Al contrario, in Belgio, è fortissima la presenza dell'Islam più radicale, ed è anche forte il processo di ghettizzazione. Il quartiere di Bruxelles del quale si parla tanto, Molenbeek credo si pronunci, è tendenzialmente un ghetto. E l'Islam non c'entra tanto, la storia ce l'ha già detto. Povertà più emarginazione sociale più religione uguale problemi. E la religione può essere qualsiasi cosa, possono anche essere le regole della strada. I ghett, può essere qualsiasi cosa. Quindi non so, Gentaglia, voi cosa ne pensate? Non sarebbe meglio se per una volta, invece di continuare a parlare dell'Islam, come dell'incarnazione del demonio, dell'invasione in ogni luogo, in ogni posto, provassimo un'altra strada. Magari quella della carota, invece che quella del bastone. E questo è tutto quello che avevo da dirvi per oggi. Grazie per aver guardato, Gentaglia, credo che sia una puntata lunghissima. Cercherò di montarla al meglio delle mie capacità. Contando comunque il fatto che di fronte a me si prospetta un lungo weekend. Lunedì non c'è Breaking Italy, è Pasqueta anche per me. Ho intenzione di andare a... non ho ben capito dove dobbiamo andare, sui monti. Dobbiamo vedere delle cose, mangiare molto. È quello che ho intenzione di fare, mangiare e bere. E poi attorno a me le cose possono anche cambiare, lo spazio. È come stare su un green screen. Si muove tutto dietro e io mangio e bevo. Questa è la vita che voglio. È molto lungo questo finale. Veronica e Lorenzo sono il nostro alfiere e la nostra regina di oggi. Ci mandano la foto da Cisterna, ho controllato nel Lazio. Ora non vorrei sbagliarmi perché ho controllato prima, ma dovrebbe essere così. Ed è tutto quello che avevo da dirvi per oggi. Grazie per aver guardato, qui sono probabilmente fuori fuoco. Ci vediamo martedì alle 18.00.